Sono arrivati anche con i pullman da tutto il territorio regionale, circa 150 persone per manifestare e protestare davanti al Consiglio regionale presidiato dalle forze dell'ordine. Hanno portato striscioni, megafoni, amplificatori e persino una decina di sacchi di letame. Il comitato Cacciamoli, come annunciato, si è presentato più battagliero che mai davanti a Palazzo Daimmo. C'erano rappresentanti di movimenti, associazioni, comitati, dei sindacati SOA e OSB, di Partito Comunista Italiano, Partito Comunista dei Lavoratori, Partito Marxista-Leninista Italiano e Potere al Popolo, ma anche semplici cittadini. Una protesta, ancora una volta dura e serrata, una contestazione, quella del comitato Cacciamoli, senza mezzi termini, contro chi gestisce la sanità e l'emergenza Covid in Molise. La richiesta, azzeramento del Consiglio regionale dei vertici ASREM e intervento diretto del governo. Magari noi non li caccieremo, ma loro ne usciranno con le ossa rotte. Voglio dire, questi signori, se non escono adesso, significa che quando usciranno non potranno farsi vedere per strada, perché ormai la vergogna li ha sommessi totalmente. Qui siamo arrivati a livelli che sentiamo dire da rappresentanti delle istituzioni, tu non sei nessuno, perché dentro vige la regola che una volta che si è eletti loro sono il Dio e gli altri non sono nessuno. Allora queste cose qui, noi le portiamo alla popolazione, come lei ha visto e come hanno visto tutti quelli che ci stanno, siamo il doppio dell'altra volta. La prossima volta fra 15 giorni saremo il doppio del doppio, arriverà il caldo saremo molto di più e non lo so io se questo può essere per voi una logica, vogliono andare avanti così. Noi certamente non ci fermeremo. I manifestanti non hanno fatto sconti a nessuno, attaccando sia maggioranza sia opposizione in Consiglio regionale e in particolare i 5 Stelle. Stiamo facendo un'osservazione vibrante a proposito del ruolo che non sono stati capaci a svolgere rispetto al governo, rispetto al Ministero. Questi commissari andavano rimossi da parecchio tempo. Se si è aperto uno spiraglio è unicamente grazie alle dimissioni del commissario Giustini che non è stato rimosso. C'è un precedente illustre che evidentemente denota il diverso spessore, il diverso peso specifico dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle e del PD calabrese. In Calabria hanno rimosso un commissario pari gradi di Giustini. Qua non c'è verso. Non sono capaci di dire al governo, attraverso la intera delegazione parlamentare, che è tutta grillina, oltre ad una scappaticcia, che questi commissari andrebbero rimossi. Questa mancata rimozione, con tutto quel che ne è conseguito, ha prodotto le cose che sappiamo noi molisani. Il commissariamento della sanità nella regione molise è avvenuto grazie al centro-destra. È succeduto frattura che ha fatto azioni sulla stessa falsariga, ma adesso si è introdotto un altro argomento, cioè la incapacità di questi gruppi, che qua sono minoranza, ma a livello nazionale stanno nel governo e il governo costituzionalmente ha il potere di rimuovere questi incapaci che hanno fatto tanto, tanti, tanti danni ai cittadini molisani. Davanti al Consiglio regionale anche gli infermieri e operatori sociosanitari a partita IVA che chiedono ancora una volta di essere assunti a tempo determinato.